Allora, parliamo Maurizio del post Andanovic e Filippo e sentiamo bene cosa ha da dirci Federico Bertone. Ok, allora guarda, vi faccio vedere direttamente una scheda così lo conosciamo meglio perché sarà lui, sarà Onana il post Andanovic, portiere dell'Ajax, Andrea Onana, 25 anni, valore per Transfermarkt, 30 milioni, ma in realtà è un parametro zero perché va in scadenza il prossimo 30 di giugno. È all'Ajax dal 2015 ma è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, va appunto in scadenza nel 2022, ecco c'è questa cosa da dire che Onana è squalificato per doping fino al 3 di novembre di quest'anno. Questa squalifica per doping che poi è stata anche ridotta, Onana ha fatto ricorso, insomma come sempre in queste situazioni c'è la sentenza che fa fede, Onana si dichiara innocente, dice di aver preso per sbaglio un farmaco che usava la moglie, però al di là di questo Onana dal 4 di novembre sarà di nuovo in attività, chiuderà la stagione all'Ajax e poi ha già trovato di fatto un accordo con l'Inter per la prossima stagione. Qualcuno pensava che l'Inter potesse accelerare i tempi e portarlo a Milano già a gennaio, però questo non succederà. La stagione la finirà Samira Andanovic, poi io non so se l'anno prossimo Andanovic resterà a fare il vice magari per aiutare Onana a inserirsi, però dall'anno prossimo il portiere titolare dell'Inter sarà proprio quel signore lì. E anche questa Filippo non è una illazione di mercato, sembra una notizia ormai diciamo conclamata. Sì, ma l'Inter è suo a Onana da un anno, da un anno intero si era capito che c'era qualcosa, poi adesso lo capiamo meglio. Io sono molto contento perché a me Onana è sempre piaciuto tantissimo, ha già molta esperienza anche a livello internazionale, ha giocato tantissime pari di Champions League con l'Ajax, è un giocatore tra l'altro che è stato scoperto da Samuel Eto'o che l'ha portato con la sua Academy nella cantera del Barcellona, è un giocatore molto bravo coi piedi, molto bravo a livello di istinto, a livello di riflessi. È un po' come Mignone. Pensi che c'entra un po' Eto'o nella scelta dell'Inter? No, non credo. È proprio casuale? No, non lo so, magari sì, però non mi risulta, non credo, però può darsi, però credo che Ausilio abbia adocchiato Onana da parecchio tempo. Onana è stato uno dei migliori portieri d'Europa due anni fa, è stato tra i primi cinque migliori portieri d'Europa, cioè stiamo parlando non di uno, di un ragazzino alle prime armi, stiamo parlando di uno che ha già giocato titolare tante partite in Champions. Ma è similabile a quello del Milan come anche struttura fisica, come tipo di… Sì, mi sembra che… quello che ho visto di Onana, adesso io Magnano lo conosco così bene, l'ho visto solo tre volte in questo inizio di campionato, non ho mai visto giocare nel Lille, quindi non lo so, è molto esplosivo Onana, è uno che esce tantissimo, è uno a cui piace tanto giocare con i piedi, è uno molto reattivo tra i pali, a me piace molto, ha esperienza e arriva a costo zero. La cosa curiosa è che arriva questa notizia dell'acquisizione, non è una notizia forse l'Inter, la danno una cosa perfatta, finita eccetera, in teoria non potrebbe essere. No, in teoria non potrebbe essere, però io credo che non sia neanche una situazione di adesso, credo che sia una situazione che risale a qualche mese fa, ora è stato definito tutto, in teoria fino a gennaio l'Inter non potrebbe trattare con Onana se non previa l'autorizzazione del suo club e fino a febbraio… Cosa che potrebbe pure essere, noi non lo sappiamo, ma magari l'Ajax gli ha detto vai… Parlate, sì. Parlate, tanto per lui è un giocatore… L'Ajax ha fatto delle dichiarazioni pubbliche, ufficiali, in cui ha detto che le trattative con Onana si sono interrotte perché il giocatore vuole andare da un'altra parte e che loro hanno fatto la loro offerta, finita lì, l'Ajax non è che sta provando, tanto è vero che lui adesso torna, si sta allenando, ma poi pare che giocherà con la squadra B dell'Ajax, non tornerà in prima squadra. Comunque sono dei regolamenti che vengono bypassati abbastanza regolarmente, insomma non ci possiamo stupire né indignare più di tanto, cioè o si fanno rispettare sempre oppure non è che ci possiamo indignare una volta. No, però ci sono anche delle cose che… capisco il regolamento, però ci sono anche delle cose che non si possono bloccare, cioè ci sono i rapporti tra dirigenti, agenti, eccetera. Non credo che tu possa vietare a un agente di parlare con i vari dirigenti quando… No, però tu se vuoi un calciatore tesserato per una squadra, per parlare con lui dovresti avere l'autorizzazione di quel club, cosa che invece non succede mai, quindi non è che non l'ha fatto l'Inter, non lo fa nessuno. No, ho capito, per parlare con lui, per parlare con la gente non credo che sia… No, per parlare con la gente, tu puoi parlare con la gente… Non di lui. Perché altrimenti senza… tu stai… Sì, è abbastanza surrealista questa cosa. Per parlare con un calciatore, tu devi informare il club e lo puoi fare nei sei mesi prima la scadenza del contratto. Benissimo, benissimo, perdonami, però ci sono delle cose che sono d'accordo con te, questa è la regola. Poi ci sono delle cose che ovviamente sono delle sfumature. Se io, dirigente in questo caso dell'Inter, visto che parliamo di Onana, vado a cena con il procuratore di Onana, che avrà altri sette giocatori, per parlare di cosa ho fatto con i miei figli ieri, in più nel chiacchiericcio, ah sì, adesso non rinnova con l'Ajax, vabbè facci sapere. Cioè, adesso va bene tutto, però non è che si può pensare di poter regolare un chiacchiericcio e un'informazione tra... No, ma non è un questo, non è un chiacchiericcio, è un contratto fatto. No, non è un contratto fatto, il contratto fatto non c'è, non c'è nessun contratto fatto. Lo farai dopo, ma se nella parola dici il mio assistito guadagna tot all'Ajax, a scadenza del contratto vorrebbe guadagnare tot e l'Inter dice, beh, noi si avremmo interessati, fateci sapere. Filippo, siamo tutti d'accordo che lo fanno tutti, quindi va bene. Ma è normale, non puoi vietare una cosa del genere, non è fattibile. Ma scusami, vieti tutti i contagi, ma posso fare una domanda? Non è che dobbiamo dire che si è arrivato. A chi vuoi farla? No, su questo discorso. Ma se l'Ajax dà il consenso? Se l'Ajax dà il consenso, sì. Allora, anche questo noi non possiamo sapere. E l'Ajax dà il consenso da gennaio in poi, perché l'Ajax già mi sembra che non sia molto ben disposta nei confronti di Onana, perché l'ha messo in un angolo, quindi se lui chiede l'autorizzazione per trattare con un altro club, sono portato a pensare che l'Ajax se non è obbligato a farlo, non credo che lo faccia. Sì, però dico, se la società dà il consenso… Con il consenso della società si può fare tutto. A te piace come giocatore? Con il consenso della società puoi fare pure il contratto. No, beh, un giocatore, come ha spiegato Filippo, arriva anche da una squadra dove con i piedi devi essere bravo per forza, perché se hai fatto l'Ajax, l'Ajax giocava così. Noi siamo arrivati da pochi anni a questa parte, che col portiere giochi palla dietro… Già da scruire i young blood… L'Ajax lo faceva quando c'era Cruyff, il grande Cruyff, perciò se ha fatto tanti anni all'Ajax con i piedi è fortissimo. Poi è un ragazzo che è esplosivo, perciò è un buon giocatore, è un buon giocatore… Poi è giovane, 25 anni. Ha fatto, secondo me, ha fatto un grande acquisto, se mai dove si farlo, perché al momento… 1,88, 1,89. 1,90? Come altezza? Sì, è da 1,88, 1,89, è così. Ma è uno dei giocatori che in questo momento è il portiere, che all'Inter serve, perché comunque deve sostituire Andanovic, ha fatto un grande acquisto, oltretutto è anche a parametro zero. Quindi… Gli seguiva il portiere Claudio alla Juventus? Non dico Nana, dico in generale. Ma io, Nana, non voglio dirti delle cose, faccio come ha fatto Filippo prima, cioè sono sincero, lo conosco poco, quindi non posso dirti è bravissimo, non è bravissimo, l'ho visto giocare in due o tre partite. Beh, Claudio, Magna non lo conoscevamo quasi nessuno, io credo, quando è arrivato qui, insomma si è fatto conoscere bene, immagino, quando ha vinto il campionato. Ma non sto mica dicendo niente, sto dicendo che non lo conosco, Scesni lo conosco e so che se sbaglia due partite, quelle tre dopo, probabilmente come ha fatto, ce le salva, quindi mi tengo Scesni in questo momento. No, ma poi scusa, il discorso della Juventus è un discorso completamente diverso a livello di portieri rispetto all'Inter. Cioè, l'Inter ha un portiere che ha 37 anni, l'anno prossimo ne fa 38, è un giocatore che ha dato tantissimo. È il capitano, è il capitano, vabbè ho capito, ma c'ha 38 anni l'anno prossimo, è chiaro che una società come l'Inter deve guardare al futuro, ripeto quello che dico sempre. Vabbè, però Filippo, abbia pazienza, ha 38 anni, fino a 40 si può fare il motivatore. Ma infatti andrà in panchina e farà il vice, vediamo se avrà gli stessi risultati di Ibra a meno della metà dello stipendio. Però, quello adesso, a parte delle eronie, Andanovic a 38 anni è in assoluto il portiere più longevo degli ultimi 30-40 anni di Inter. I grandi portieri dell'Inter nel passato, tra cui metto ovviamente anche Andanovic, se toglie Andanovic che ha 38 anni, gli altri grandi portieri, Pagliuca, Toldo, Zenga e Giulio Cesar, a 34 anni hanno preso e hanno salutato, tranne Toldo che si è messo a fare il vice di Giulio Cesar, non ha fatto il titolare, faceva il vice di Giulio Cesar. C'è un, raggiunge un limite di età che se non sei Buffon, purtroppo ti costringe a o Zoff, ti costringe a abdicare. Lui lo ha fatto, lo farà, Onana ha 25 anni, io l'ho visto giocare più volte, ma qualche anno fa, quando l'Inter non c'entrava niente, l'ho visto giocare più volte, mi è piaciuto subito, perché è stato subito, mi ha fatto subito impressione per come giocava palla a terra con i piedi, lancio lungo, tocco corto, qualche dribbling di troppo in area, qualche preziosismo. Ma scusa, ma io penso che è un tiquartista, non è un portiere allora. No, ma che c'entra. No, gioca bene, lancio lungo, tocco corto, dribbling. Scusa, quando tu hai visto Neuer giocare... Beh, la Columbia ci aveva... No, però scusa Mauri, tu capisci molto bene. nel calcio, quando hai visto Neuer giocare da giovane nello Schalke 04, ok, quando hai visto Neuer, al di là della forza fisica, della prestanza fisica, lo hai visto giocare coi piedi, lo hai visto giocare fuori area, l'hai visto giocare... Ma io sono anziano, io sono anziano Filippo, per me il portiere deve prima di tutto, io per me è un buon portiere, per me è un ottimo portiere, però il portiere per me prima di tutto deve parare. Se puoi giocare anche coi piedi è un altro discorso, però per me... Cioè tu mi dici che il portiere ti ha colpito perché hai il lancio lungo, hai il passaggio corto, fai dribbling, e io mi spavento perché... No, ma non è questo il punto, io ho fatto un altro discorso prima anche, che ovviamente tu dal vecchio lupo di mare hai omesso, ma hai ascoltato, hai sentito benissimo. Io ho detto che tra i pali è esplosivo, che è bravissimo in uscita, che è uno con i riflessi, quindi l'ho detto che tra i pali è bravo e para bene, quindi lo so che tu vuoi provocarmi perché sai che io poi abbocco perché mi scaldo e ti do soddisfazione, mi scaldo, però mi devi ascoltare o almeno fare finta, però quando l'ho visto la prima volta come mi ha sorpreso Neuer, perché quando ho visto Neuer giocare la prima volta ho visto questo portierone che giocava coi piedi, che sull'uscita andava via di tacco, poi arrivava fino alla tre quarti difensiva per giocare la palla, ve lo ricordate tutti Neuer allo Schalke, ve lo ricordate come giocava, era una sorpresa perché nessun portiere faceva quello che faceva Neuer, e poi Neuer è diventato Neuer, scusate se è poco. Pensa che io e Stefano ci ricordiamo ancora il colpo dello scorpione di Ighita, me lo ricordo anch'io il colpo dello scorpione di Ighita, me lo ricordo anch'io. Mi ricordo anch'io quante volte l'ha buttata dentro la sua porta. Però qualche volta, ecco, quante volte gli segnavano lui. Quante volte l'ha buttata dalla sua porta in Ighita. Però Ighita ha fatto una cinquantina di gol in carriera, eh? Eh, tirava i rigori. Anche punizioni, i rigori. Allora Maurizio...